Tony Russo inizia domenica la nuova rassegna di musica teatro al circolo di cultura di Sciacca. Un programma vario e articolato? Sì, è il quinto anno che è articolato, vario e lungo perché arriva fino al mese di aprile. E quindi iniziamo questa domenica 10 novembre alle ore 18 e 30 con il primo spettacolo musicale che vede la presenza di un grande musicista che si chiama Orazio Mauggeri che è un sassofonista accompagnato al basso dalla russa, poi c'è un mordino alle congas e il nostro Marco Camarda che come sempre ci ha aiutati a trovare questi bravissimi musicisti di Palermo. Quindi un programma molto ricco e l'inizio penso che sia splendido, spero che avremo tanto pubblico, tante persone che sempre ci seguono e poi ci saranno lungo tutto il percorso del 2019 e del 2020 tanti spettacoli, alcuni anche teatrali, fra cui quello dedicato a Caravaggio ma lo faremo all'Abbadia Grande. Ma questa domenica 10 novembre alle 18 e 30 ci sarà invece il New Standards. Si chiama così lo spettacolo perché sono gli standard del jazz rivisitati in chiave moderna e proposti da questo grande musicista. Da diversi anni ormai andate avanti, come ha reagito il pubblico Saccenze? In fondo questa è una bella opportunità in un periodo, quello invernale, primaverile, in cui non è che sciacca offra tanto altro. Sì, è un modo per riempire queste domeniche vuote, molto spesso, tranne che andare a messa per chi ci va. Quindi preferiamo infatti fare gli spettacoli la domenica ed essere presenti proprio nei periodi morti cosiddetti, nei periodi in cui la città ha bisogno di avere dei punti di riferimento, andare al cinema, venire al teatro, venire a sentire un po' di buona musica. Questo è il ruolo che dovrebbe ha il circolo di cultura da diversi anni. Penso che sia stato ben accettato e molte persone si sono avvicinate. Spero si avvicinino anche come soci. Questa è una cosa importante per noi per vivere più tranquillamente anche l'esperienza del circolo. Questa è una cosa importante per noi per vivere più tranquillamente.